Era uscito come sempre per cercare tartufi nei boschi di Montalto, frazione di rio Nero Sannitico. Si è invece imbattuto in una scena raccapricciante mentre stava scavando. Nicola Matteucci ha visto una femmina di lagotto con un'enorme ferita sulla testa. Con ogni probabilità era stata colpita dal suo padrone con un vanghello e subito dopo abbandonata una ferocia inaudita. Mi sono girato e ho trovato un cane che mi seguiva, una lagotta bianca di non si sa un anno, due, tre con la testa con numerose ferite anche sulle orecchie, sul collo, sulle spalle ma in particolare un grande taglio presumibilmente da vanghettata sulla testa. Spaventatissima, coda tra le gambe, atteggiamento pauroso. Piano piano sono riuscito ad avvicinarla perché aveva evidentemente molta fame con le crocchette a metterle un guinzaio. Ho chiamato mia moglie e piano piano abbiamo cercato di ricaricarla nella jeep per portarla dal veterinario a Venafro, Andrea Di Franco, che avevo già contattato telefonicamente. L'unica colpa del povero animale è stata probabilmente quella di aver addentato un tartufo che aveva appena trovato. Il cane non aveva il microchip come hanno avuto modo di riscontrare i carabinieri forestali. Data la gravità del caso, gli stessi militari hanno consigliato al cercatore alto molisano di rivolgersi subito a un veterinario per curare le ferite e salvare l'animale. L'intervento è durato diverse ore ed è stato molto complesso, ma per fortuna è andato tutto per il meglio. L'ha dovuta sedare, l'ha dovuta anestetizzare, ha dovuto ricostruire i tessuti muscolari che ricoprono la scatola cranica perché c'era proprio un taglio netto da vanghettata e ha dovuto ricostruire il sottocute sopra, penso più di 50 punti. La scelta di andare subito dal veterinario senza pensarci due volte si è rivelata provvidenziale. Il lagotto ora sta bene, ha ritrovato un minimo di serenità ed è ormai sulla via della completa guarigione e probabilmente non finirà in un canile. Questa brutta storia infatti è destinata a concludersi con un lieto fine. Probabilmente lo adotterà il veterinario stesso che ringrazio tanto per non avermi neanche fatto pagare l'intervento.